Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Adesso anche l'Unione Europea pensa di mettere fuori legge TikTok, la nota applicazione cinese che fa impazzire i giovani e che sta superando tutte le altre piattaforme social. È già accaduto negli Stati Uniti d'America dove da tempo si discute della messa al bando di TikTok e adesso, come sempre, l'Unione Europea segue al traino tutto ciò che fa la civiltà dell'hamburger, della quale, d'altro canto, è colonia senza dignità. Leggiamo dunque in questi giorni sui principali e più venduti quotidiani nazionali che l'Unione Europea medita di mettere fuori legge, di mettere al bando TikTok. Alcune considerazioni controvento si impongono naturalmente. In primo luogo, benvenuti nel mondo del libero mercato dove sono ammessi tutti i marchi e tutte le piattaforme a patto che siano di gradimento dell'ordine dominante che altrimenti le pone fuori legge, come nel caso di TikTok. In secondo luogo, noi non siamo certo fan di TikTok che pure utilizziamo per diffondere i nostri contenuti e però non si capisce perché TikTok debba essere messo al bando e invece Facebook, Twitter o Instagram possano rimanere. Forse che non sono la stessa cosa in fondo o semplicemente TikTok non piace perché è cinese, anche se poi in realtà chi l'ha prodotto non è certo organico al governo di Pechino, anzi mi pare che nelle linee fondamentali sia organico al discorso della globalizzazione neoliberale. Insomma, possiamo ben dire che il libero mercato funziona così. È libero nella misura in cui i partecipanti al libero mercato sono organici a detta civiltà del mercato, altrimenti se vagamente non sono graditi vengono posti fuori legge. Allora, vi piace questa democrazia liberal capitalistica?